fare memoria sulla propria vita e dare gloria a dio fare memoria sui nostri peccati dai quali il signore ci ha salvati e dare gloria a dio è la riflessione offerta stamani da papa francesco durante la messa celebrata a santa marta commentando il vangelo del giorno il pontefice si è soffermato sull'importanza di avere uno sguardo ampio sulla propria esistenza sul proprio cammino fatto di incertezze di peccati ma soprattutto di grazia e di speranza quando gesù dice a marta tutti affanni e ti agiti per molte cose ma di una cosa c'è bisogno maria ha scelto la parte migliore cioè sentire il signore e fare memoria non si può pregare ogni giorno come se noi non avessimo storia ognuno di noi ne ha la sua e con questa storia nel cuore noi andiamo alla preghiera come maria ma tante volte siamo distolte come marta nei lavori nella della giornata di fare quelle cose che noi dobbiamo fare e dimentichiamo di questa storia